Ho perso tutto perché il mio appartamento, come altri venti, è completamente raso al suolo e quindi non c'è più niente della mia vita passata. Tutto quello che avevo era lì dentro. Quindi ogni volta che vengo qui, in qualche modo rivivo, ma come altri. Ci sono persone che non vengono per niente proprio, non vogliono più venire, perché comunque il fatto di perdere tutto è una situazione molto forte dal punto di vista emotivo, almeno io lo sento molto forte. Questa è la sostanza che è responsabile un po' di tutto il disastro. Polietilene, la torre ravvolta da 17 tonnellate di polietilene, è un materiale altamente infiammabile che combinato ai pannelli, non a norme, ha contribuito a creare questo disastro che oggi vedete. Considerate che era agosto ed era di giorno, erano le 5 e mezza del pomeriggio. Tuttavia io non so cosa sarebbe potuto accadere di notte in una situazione di questo tipo, perché chiaramente la notte è tutta un'altra cosa. C'era la chat condominiale che ha funzionato molto bene, perché chi era in casa e se ne ha accorto ha subito mandato un messaggio in chat. Tutti hanno visto fuoco che cominciava a divampare, moltissima gente ha scampanellato i vicini, c'è chi ha chiamato anche Mahmood che era in casa per fare in modo che uscisse. Vedete i segni che sono rimasti dei quadri? Le porte, lo stato delle porte, e soprattutto il nero. Questa era la sala da pranzo e questa era la cucina. Come vedete non c'è più niente e tutto è andato completamente perduto. Possibilmente ripartirà anche il mutuo della torre, e quindi avrò la doppia cosa, dove avrò un affitto da tirare fuori i soldi, la torre che ripartirà in mutuo e le spese condominiali della torre, che comunque ci sono e inizieranno ad essere ancora più ingenti, perché considerate una cosa, tenere su questo palazzo così come lo vedete, ci costa a tutti noi oltre 200.000 euro. Adesso ci saranno delle altre spese aggiuntive. Abbiamo un budget definito l'altro giorno di circa 300.000 euro e sono le spese di sgombro che dobbiamo pagare noi, sono le spese di demolizione che dicevo l'assicurazione paga fino a un certo punto, ma poi il resto lo dobbiamo tirare fuori noi. È una storia che fa soffrire, perché questo oltre ad essere la casa era anche un luogo di affetti, perché io vivevo nelle villette dove c'è tutta la corte e vi posso assicurare che eravamo molto amici. Anche nel periodo del Covid abbiamo vissuto insieme in questo periodo. Allora, il procedimento penale con le costituzioni di parte civile garantiscono un risarcimento, che è ovviamente di un danno che proviene dal reato. Quindi non stiamo parlando in senso civilistico di danni materiali. Questo eventuale risarcimento potrebbe aiutare le famiglie a ricostruirsi l'appartamento, secondo lei? No, non siamo nei termini di una quantificazione così importante, proprio perché il giudice penale stabilisce una somma a titolo, chiamiamolo, di acconto e poi rimanda al giudice civile per la quantificazione. potrebbero veramente volerci molti anni per ottenere l'acconto. Se poi deve rimandare al giudice civile per la quantificazione del danno, puoi bene immaginare che gli anni si moltipli. Non possiamo entrare in casa, ma dobbiamo tirare fuori più soldi per entrarci tra due anni. Il mutuo riparte quando? Dipende. Il mio riparte praticamente l'anno prossimo. Quindi prima della fine dei lavori? Dipende dalla banca, anche qui, anche sulle banche, l'altro vuoto normativo è proprio questo. Mentre in una situazione dove, faccio l'esempio classico dei terremotati, c'è un percorso. Per noi non c'è niente, quindi le banche ti dicono no, voi avete avuto un danno colposo, quindi sostanzialmente un disastro colposo, quindi per noi non cambia niente. Siamo dovuti andare dal prefetto per convincere le banche a farci un posticipo del mutuo. Considerate che in Inghilterra, dopo la tragedia di Grenfell, se fai una costruzione sopra un metro e mezzo, devi avere tutti i materiali classificati antincedio in classe 1. Da noi mica è così. Ancora oggi non è così. Ho girato pagina, ho capito vita, ho lontana da qui, così non vedo neanche, e mi infastidisco tornare qua. Ho addirittura ancora le cose in cantina, in box. Quando perdi poi tutto a quest'età qua è difficile ricostruirlo. Cioè significa ripartire praticamente, cioè dimenticarsi di quello che è accaduto e rifarti una vita a 60 anni. Non sarà semplice, però è una sfida che voglio cogliere. Non sarà semplice, però è una sfida che voglio cogliere.